Benvenuti a tutti e oggi, come dicevamo prima con il mio amico seduto da quella parte, siamo a una conferenza di un film a mio parere straordinario, che però non ci vede partecipi con grande pubblico, però cercheremo di fare qualcosa di bello, di costruttivo, perché sarà un dialogo a due, grazie alla collaborazione della nostra amica interprete. Scusami, ho dimenticato il tuo nome, se lo vuoi ripetere ad alta voce? Caterina. Allora, noi siamo di fronte a un film ucraino, per la regia di, adesso scusate ma sono nomi complicati, Filip Sotnicienko, che mi ha detto il nostro ospito che è Novrusi Khmet, che è attore e collaboratore alla regia di questo film, è un film del 2023, che in pratica racconta, tra l'altro con una straordinaria riproduzione anche dal punto di vista visivo, un episodio della metà degli anni 90, in Ucraina, prima ancora che l'Ucraina diventasse indipendente. Allora, io inizio subito con una domanda per Novrusi Khmet. Intanto, se ci vuole spiegare il titolo, La Palisiada. A tutti i festival questa è la domanda più popolare. Filip, il regista, ama molto le parole complicate. In realtà, so che è una parola francese. E veniva utilizzato come una parola unica in francese, ma Filip ha deciso di dividere in due questa parola. E ne risulta La, che viene utilizzato come articolo, e poi Palisiada. E nella nostra immaginazione La Palisiada ricordava la polizia, cioè doveva essere un termine un po' aulico per riferirsi alla polizia. Ho capito adesso, adesso mi è molto più chiaro il titolo, perché in effetti è una storia che si sviluppa proprio in ambito poliziesco, perché c'è una indagine sull'uccisione di un poliziotto e l'indagine è svolta da due colleghi che cercano di arrivare ad una conclusione. Però la particolarità di questo film è che si svolge in due dimensioni temporali. C'è una parte ambientata, credo, dopo l'indipendenza dell'Ucraina nei confronti della Russia e una parte invece ambientata prima, molto prima, quasi forse più di trent'anni prima. Ecco, io vorrei sapere, visto che Novru Sikmet è anche collaboratore alla regia di questo film, è la scelta di questa doppia dimensione temporale. Prima di tutto vorrei apportare una correzione, perché in realtà tutte e due le linee temporali si svolgono dopo l'indipendenza ucraina, perché nel 1996 l'Ucraina era già indipendente, nel 1991 è diventata indipendente. L'idea è che negli anni 90 in realtà l'eredità sovietica si sentiva molto di più di quello che si sente adesso, spero. All'inizio il primo montaggio del film prevedeva che ci fossero due linee molto più separate di quanto non sono adesso, in cui si vedevano gli anni 90 da una parte e dall'altra il giorno d'oggi. Sì, ci sembrava che così sarebbe stato più interessante. Ci sono due spari all'interno del film, uno all'inizio e poi uno nella seconda parte. Ci sembrava che facessero uno da equo all'altro perché richiamassero le diverse epoche, per ricongiungere le due diverse epoche. Allora, intanto, a mia discolpa, dico che la notizia dell'indipendenza non raggiunta l'ho letta perché mi sono andato a documentare su altri, su dei siti e su degli articoli già scritti su questo film. No, no, e invece evidentemente qualcuno erroneamente ha scritto questa cosa e io stupidamente sono caduto nella trappola. Dice che del nostro film viene descritto in modo molto diverso e si legge un po' di tutto sul nostro film. È verissimo, è verissimo. Ho letto addirittura commedia io a un certo momento, in una critica, il che mi sembra un pochino azzardato. In realtà in Polonia e in Ucraina spesso ridono guardando il film perché c'è un certo senso dell'urmurismo che da altre parti non viene colto. Allora, dalla sala qualcuno ha delle curiosità? Attenzione che continuo io, sono affari vostri, ve la siete cercata. Novrus, questo progetto, visto che tu sei stato collaboratore alla regia di Filippo Sotnicienko, credo di averlo detto giusto, volevo sapere se quando nasce, come viene fuori, insomma come questa cosa, se ci avete messo tanto tempo a elaborarla, insomma la genesi, la storia di questo film. Questo progetto per Filippo è incominciato cinque anni fa circa. A Filippo piace dire che questo progetto in realtà è nato nel momento in cui in Wikipedia lui ha letto che nel 1996, soltanto nel 1996, hanno vietato la pena di morte in Ucraina. E noi ci ha molto scoperto, che noi siamo male, siamo così, e che quando Filippo aveva solo l'argomento, l'argomento in Qielo, l'Ucraina ha creato in questo momento un secondo metodo per la morte in cui aveva partito di l'argomento. E ridevamo e commentavamo il fatto che nel 96 eravamo bambini, ci ricordiamo della nostra vita nel 96 e in quel momento a Kiev c'era la pena di morte e l'Ucraina era il secondo posto in Europa come quantità di persone che venivano effettivamente condannate a morte. E io lavoravo in diversi proiecti con il secondo regista, ho scelto i miei piccoli metri e Filippo mi ha proponato scegliere, inoltre di essere il secondo regista, ma anche scegliere in molti tempi che non c'era il scenario. Stavo girando dei miei cortometraggi, ma Filippo mi ha chiesto di diventare attore per questo film e di aiutarlo con la regia e non c'era ancora la sceneggiatura in quel momento. Siamo tutti cresciuti negli anni 90 e per noi una delle cose più importanti in questo film era far vedere l'eredità sovietica del nostro paese, la corruzione, lo stato sociale in cui viveva l'Ucraina e il nostro tentativo di levarci, di cambiare strada, di levarci di dosso questa eredità pesante. Allora, domande, pronti? C'è Francesco e poi dopo quel ragazzo lì, grazie. Allora, ho letto che la scena finale del film è girata a Buccia, che è una città che noi abbiamo conosciuto, ahimè, in maniera tragica. Ecco, volevo sapere come si sono svolte le riprese, chiaramente era prima della tragedia e poi che effetto vi ha fatto quando avete, insomma, constatato, avete visto, abbiamo tutti visto quello che era successo in quella città che era stato poi il set del vostro film. Abbiamo in realtà girato questo film prima dell'inizio della guerra, durante il Covid. Però c'è questo fatto interessante, effettivamente questa scena, l'ultima scena è stata girata in una prigione di Buccia. E in realtà adesso faccio fatica a creare, a pensare di poter creare qualche parallelo a Buccia in un qualsiasi film. E credo che, perché non trovo le parole adesso per commentare gli atti di terrorismo che avvengono adesso in Ucraina. E penso che per il cinema sia ancora presto di incominciare a meditare e a mettere in scena qualcosa che possa riferirsi a quello che sta succedendo adesso in Ucraina. È troppo presto. Non c'è nulla, ma non c'è nulla, ma è già preparato a decorare la guerra. È un metodo che non è bello. Ci sono stati degli episodi interessanti in Ucraina da questo punto di vista. L'anno scorso qualcuno, una compagnia cinematografica ucraina, ha deciso di fare un film a Buccia su Buccia. E c'è stato un polverone incredibile perché tutta anche la comunità proprio del mondo della cinematografia si è detta contraria. Perché dice questo è un metodo sbagliato. È come i russi che arrivano adesso a Mariupol e girano dei film di guerra a Mariupol perché è già tutto distrutto. Non hanno bisogno di creare il set. Scenografia. Spero che la guerra finisca presto e che quando sarà finita allora potremo incominciare a girare dei film che parlano di guerra e allora voi ci inviterete. Risponderò alle vostre domande ma sarà dopo, è più tardi. Speriamo che finisca il prima possibile. Buongiorno. La mia domanda è nel film si respira quest'aria post-apocalittica, soprattutto nella parte direttiva al passato. Appunto sia nel presente che nel passato ci sono questi due spari. Un po' il passato non riesce a garantire un futuro migliore. La parte ambientata appunto nel presente, l'inizio del film, non si libera del peso del passato. Sembra sempre che ci sia stato uno stato colonizzatore. Volevo chiedere rispetto a questo, il film dà della speranza? C'è una speranza all'interno del film? Perché appunto il finale non sembra lasciarne. C'è un'ottima domanda perché hai colto un aspetto importante del film, perché il film vuole trasmettere il peso che portiamo, il peso dei nostri padri che portiamo noi sulle nostre spalle. Posso risponderti come attore? Ti dico, per me come attore in questo film non c'è luce. Ma questo non c'è luce, ovviamente, per tutta l'Ucraina e per la nostra vita. Ma proprio il fatto che questa ragazza uccide il suo figlio, e il fuoco che si tratta, è un'ottima cipolla di действi karmici. Ovviamente il mio non è un giudizio che può riguardare tutto il popolo ucraino e la mia nazione, però voglio farvi ritornare due spari che avvengono all'interno del film. Quello della ragazza all'inizio che spara il suo ragazzo e lo sparo della fine. È come se il karma li unisse le azioni del film con quei due spari. Per esempio, c'è stata la rivoluzione di Maidan nel 2013-2014 ed era una manifestazione pacifica all'interno della quale hanno incominciato ad uccidere delle persone. E per me, sì, la morte di questo figlio è un allegorio per tutti i suoi eventi, ma non c'è un altro modo come cercare di essere liberi e cambiare il ruolo di действi karmici che ho detto, e sbagliare e entrare in un nuovo potere. E lo sparo della ragazza che uccide il suo ragazzo all'inizio del film per me è un po' come un emblema del Maidan, cioè una speranza che viene oppressa. Ma bisogna fare di tutto perché ci sia effettivamente speranza. Questa è la nostra lotta. Poi faccio una domanda io, però prima c'è la domanda di Antonello che vorrei. Buongiorno, la mia è una domanda molto stupida, ma tant'è. Ho letto che il film era già in post-produzione quando c'è stata l'aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Io allora vorrei sapere quanto questo cambiamento di clima, di approccio nei confronti dell'Ucraina, eccetera, ha influito sulla ricezione del film? Se voi avete notato un cambiamento tra quello che avevate previsto, perché presumo non potevate immaginare quello che sarebbe successo, e come invece viene visto dopo quello che è successo. Dice, non è una domanda stupida, è una domanda complessa. Ovviamente il nostro focus è cambiato rispetto a prima e dopo l'inizio della guerra. Quando il 24 febbraio del 22 è cominciata la guerra, io, Filippo, Valeri, il nostro regista del suono, insomma una parte della nostra squadra, si trovava fuori città a casa di Filippo. E Filippo molto voleva cominciare, lui mi ha detto che ora è importante che il film fosse un po' più bello, che il film fosse un po' più bello, ma il nostro regista non poteva cominciare a lavorare. E quando è scoppiata la guerra, Filippo ha detto adesso è veramente importante che il film venga finito e che venga visto e sentito anche al di fuori dell'Ucraina. Però il nostro regista del suono non riusciva a lavorare perché di Kharkiv, che se vi ricordate è una città dell'est che è stata colpita molto pesantemente all'inizio della guerra, e non riusciva, aveva la famiglia lì e non riusciva a, diciamo, tirarsi, raccogliersi, tirarsi insieme per riuscire a lavorare. È stato un momento molto tragico per noi. Dopo un mese è riuscito a cominciare a lavorare, però non riuscivamo ad andare in studio per montare, per cui montavamo a casa con le apparecchiature che riuscivamo a trovare. E' cambiato tutto dopo l'inizio della guerra, nel senso che anche una parte della nostra truppa è partita per la guerra, e i ruoli sono cambiati, insomma, è cambiato tutto per noi. E' cambiato tutto, diciamo, cioè lo sguardo nei confronti del cinema, dell'arte, nei confronti dei tuoi limiti, è questo che ha cambiato sostanzialmente dall'inizio della guerra. Altre domande? Curiosità? Ci avviamo un po' verso la conclusione, poi non vorrei trovarmi in situazioni come quella di ieri. No, allora ho una curiosità io. Prima tu dicevi che nel film tu non vedi luce, però c'è una sequenza in cui c'è una telefonata, se non ho interpretato male io, in cui probabilmente tu telefoni a tua figlia e ti emozioni moltissimo, e quindi volevo chiederti se questa attenzione nei confronti delle nuove generazioni non sia invece una luce che si accende nei confronti del futuro. Sì, diciamo che quella scena effettivamente rappresenta un punto di luce per il mio personaggio, che riunisce in sé tutti gli aspetti della corruzione e del problema del paese in quel momento. Però, per esempio, la figlia del mio personaggio uccide il suo ragazzo, e in questo senso io dico non c'è luce. Perché a lei piace essere come il suo padre, le piace quel tipo di ordine che le ha trasmesso il padre. Alla questa scena e la verità rende noi più oltre, più oltre, più oltre. Questa scena, in realtà, è stata una scena della mia vita, perché quando abbiamo fatto un po' molto tempo, e ho chiamato a mia donna e lei non voleva parlare con me perché è molto piccola, e non voleva parlare. E io ero molto ferito da questo. E quindi in realtà abbiamo deciso di aggiungere quella scena della telefonata dopo che avevamo già filmato il 70% del film. Perché anche a noi sembrava che dovesse comunque venire fuori da qualche parte un punto di luce. Eh sì, infatti. Allora, brevissimamente, perché siamo in conclusione, è una cosa un pochino più leggera, una curiosità, specialmente nella prima parte del film, quindi nel periodo quasi contemporaneo a noi, c'è molta Italia, se non altro per delle citazioni. C'è un motivo particolare? L'arte, il fatto che a Firenze si mangiasse un buon cibo ucraino. Dice, forse non c'è una ragione particolare, ma si riferisce alla scena iniziale in cui al tavolo parlano di rinascimento? A me sembrava che semplicemente che un personaggio come mio non potesse appassionarsi, essere interessato a arte contemporanea, ma che dovesse per forza rimandarsi ai grandi maestri della storia. Per il personaggio che è. Il chiamo di una domanda, chi non ha rubato l'interesse in l'anima della storia. C'è un'eserano di una problematica di fronte in una storia, ogni eserano di una storia più di un'eserano, una questione che si non vedioi da 경우에는 anche di rinascimento. Perché vedi la storia? Molto bene, perché è stato un pochino di quattro, ho imprigato la storia che stavano in Italia, E c'è anche un altro momento, un altro momento del film in cui è presente l'Italia in un altro senso. Filippo non spiega tutto all'interno del film, però c'è uno dei personaggi, lo psichiatra, che a un certo punto non accompagna il figlio che deve partire. La moglie gli dice perché non accompagni il nostro figlio? Il figlio dov'è che va? Va in Italia. Ed è una citazione, un rimando al fatto che negli anni 90 tanti bambini ucraini durante l'estate venivano mandati dalle famiglie in Italia. E il primo paese in cui è andato Filippo da bambino è stata proprio l'Italia. Perfetto, grazie. La Palisiada, io ringrazio Nowrussi Khmet, ma soprattutto Caterina, scusami, vuoi ripetere il tuo cognome anche, per favore? Dell'Asta. Ecco, grazie, grazie infinite e andatela a vedere. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti